Una situazione davvero drammatica, quella che sta venendo fuori dai nostri confini lungo la cosiddetta rotta balcanica che convenzionalmente inizia in Grecia e finisce fisicamente in Italia, Trieste, attraversando sei o sette paesi. Una rotta battuta da tanti disperati, una rotta di cui si è ritornato a parlare dopo la crisi turco-ellenica, quando il numero dei migranti è ancora più aumentato. Sono uomini, donne, bambini indifesi. Siamo in una situazione di una tragedia mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Ci sono ancora centinaia di migliaia di persone, di migranti, uomini, donne e bambini che sono appunto in questo limbo che si chiama Balcani. Non possono entrare per vie legali e l'unica soluzione che hanno è quella di entrare per vie illegali visto che nei luoghi dove si trovano in questo momento non hanno nessuna garanzia, nessuna certezza, non hanno neanche garantito un cibo caldo o un posto dove potersi riparare. L'attraversamento che fanno nei confini ovviamente trova poi a fronteggiare una polizia europea, in questo momento la polizia croata, che non fa altro che perpretare su di loro delle violenze di ogni genere per poi rispingerli nei paesi in cui in questo momento vengono ospitati, che sono la Bosnia, la Serbia, tutti i paesi diciamo che si trovano al di là della fortezza Europa. C'è anche un altro dato da sottolineare, il fatto che se fino a un po' di mesi fa la presenza dei volontari con dei progetti sia istituzionali che non governativi, privati, insomma particolari, erano accolti con un occhio favorevole, adesso trovano difficoltà anche i progetti dei volontari, i volontari stessi ad andare in questi posti e a portare avanti la loro attività. Purtroppo stiamo assistendo anche a questo nuovo problema, il volontario fa sempre più fatica a poter aiutare queste persone, stiamo parlando di un aiuto primario, non facciamo niente di più. L'ultimo caso un mese fa, ero anch'io in Bosnia, spesso arriva la polizia che prende questi volontari e li registra, insomma li perpetra delle azioni di violenza e quindi fanno poi sì che progetti di questo genere vengano sospesi. Di fronte a tutta la situazione che stiamo vivendo noi con il coronavirus e di fronte alla situazione che ci hai raccontato, che riflessione si può fare, che cosa si può pensare? Diciamo che di tutta questa vicenda del coronavirus possiamo semplicemente dire che questo virus dimostra che siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca e quindi l'invito appunto è quello di non girarci dall'altra parte perché lo straniero in questo caso siamo noi e quindi dobbiamo assolutamente preoccuparci di quello che ci sta intorno se vogliamo garantire anche noi di poter stare bene, di poter stare in salute, di poter vivere in un paese sicuro.